Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo episodio dello Storytime, la rubrica in cui vi racconto le cose pazze che ho fatto in giro per il mondo. Anche in Italia, però per il momento sono solo cose che ho fatto in giro per il mondo. Questo episodio è sponsorizzato da Babbel, ma ve ne parlo meglio tra pochissimo. Oggi, signori, torniamo in Giappone, perché chi mi conosce sa che il Giappone ci ha sempre regalato tante tante emozioni. Oggi vi racconterò di quella volta che ho fatto serata con un miliardario. Senza saperlo, mi sono ritrovato lì, ok, ora vi racconto tutto. Era il 2019, quindi questa è l'ultima volta che sono stato in Giappone. Tra l'altro l'hanno riaperto i confini, quindi ci sta che si possa anche un attimino considerare l'idea di tornarci. Non spoiler, però capiamo. Quell'anno siamo stati in Corea e poi in Giappone. In Giappone, a Tokyo, a una certa, c'è stato un periodo in cui ognuno è andato un po' per i cazzi suoi, e io mi sono ritrovato qualche giorno da solo a Tokyo. Ho fatto le mie cose, avevo delle robettine che volevo sbrigare. Di qua, di là, a una certa, c'era anche Giuse a Tokyo. Facciamo un paio di serate insieme, qualche cena qui, di là, sinistra, destra. Dovete sapere che nel corso degli anni abbiamo fatto comunque amicizia con un po' di persone in Giappone, giapponesi, che hanno una grande estroversione verso lo straniero. Una cosa che in Giappone non è comunissima, però nel loro settore magari anche sì. Sto parlando di un paio di signori che gestiscono una discoteca. Bene, chi mi segue su Instagram probabilmente avrà visto anche alcune di queste storie di cui vi sto per parlare. Fatto sta, a una certa, andiamo a fare serata. Andiamo a fare questa serata in discoteca. Perché andiamo sempre a fare serata in questa famosa discoteca? Perché si trattano sempre bene, ci danno un bel tavolino nel privé, e noi siamo contenti, ci danno da bere. Noi ci divertiamo lì, c'è la musica, ci sono i giapponesini che badano, insomma, è simpatica come roba. E in più si tratta di una discoteca in cui vanno spesso personaggi dall'estero, e quindi è anche facile trovare persone che parlano inglese, cosa che in Giappone non è comunissima, e quindi fare amicizia, insomma, si fa un po' di PR, ci si diverte. Un altro dei motivi per cui andiamo a fare serata in queste discoteche, o perlomeno andavamo, è che le stesse persone che gestivano la discoteca lavoravano per un'agenzia di modelle. E il privé era sempre, non voglio neanche dire quasi sempre, perché sempre pieno di modelle da tutto il mondo, e loro erano lì nel privé a fare la loro serata. Però spesso ti ritrovavi in queste situazioni in cui c'era magari un tavolo, in cui magari c'ero io e altre persone, e 40 modelle. Basta, questo era il privé. E quindi potete ben capire che abbiamo mostrato molta amicizia con queste persone. E' stato tante belle storie, insomma, sono collegate a questa discoteca, ma magari in un altro video. Oggi vi parlo forse di una delle storie più belle legate a questa discoteca. Nel 2019 finiamo in questa discoteca per l'ennesima volta, perché siamo stati tipo sette anni di fila in Giappone. Arriviamo lì, arriva da noi il manager dell'iscoteca e fa ragazzi, ragazzi, in inglese molto nipponico, mettiamo così, e fa che figata sta arrivando il mio capo. E diciamo, ok. E ci ha detto davvero in inglese che noi riusciamo a capire perché lo conosciamo tanto, però devi capire bene l'inglese tu per riuscire a interpretare quello che provano a dire loro. Perché proprio mi mancano delle parti fonetiche anche rispetto all'alfabeto occidentale. Quindi come tu non riesci a capire bene alcuni dei suoni orientali, loro non riescono a capire bene alcuni dei suoni occidentali. E poi il momento migliore per parlare dello sponsor di oggi. Questo Storytime è sponsorizzato da Babbel. Babbel è una piattaforma che ti aiuta a imparare la tua lingua nuova preferita. Ce ne sono di tantissimi tipi. C'è, vabbè, inglese, ovviamente c'è spagnolo, francese, tedesco, polacco, c'è il russo, c'è la qualunque. La cosa figa è che sanno che la pratica è ciò che rende perfetti, quindi ti spingono a iniziare subito a parlare. Tipo, se io stessi per imparare l'inglese, probabilmente nei primi dieci minuti sarei già lì Hi, how you doing? The pen is on the table. No, sto scherzando. Però si concentrano sul farti avere delle conversazioni umane, quindi non sarei solo lì a imparare i vocaboli, la grammatica, ma imparerai ad avere una conversazione. Cioè, nonostante la grammatica, i vocaboli, la parte della pronuncia, si trova tutto all'interno della stessa applicazione, cioè Babbel. Ci sono oltre 150 esperti di lingue che si occupano solamente delle lezioni, quindi non sono contenuti generati dall'intelligenza artificiale, ma c'è una vera persona dietro. Soprattutto la cosa figa è che se tu parti dall'italiano ci saranno delle, voglio dire ambivalenze, ma semplicemente ti faranno imparare una nuova lingua prendendo in considerazione la lingua da cui parti. E ciò dovrebbe rendere il processo molto più semplice. C'è anche la possibilità di attivare tipo il live tutoring, quindi sono delle lezioni dal vivo, come se tu fossi in una classe, però ovviamente dal tuo telefono, dal tuo computer, senza troppi sbatti. E nonostante le lezioni siano particolarmente brevi, concise, quindi sono all'incirca sui 10 minuti, se hai bisogno di una pausa dopo la tua lezione da 10 minuti, comunque ci sono altri modi per fare progresso senza troppi sbatti. Quindi, ad esempio, ci sono i podcast, ci sono anche dei videogiochi o addirittura dei video. Io vi lascio il link qui in descrizione con la mia offerta speciale che vi concede il 30% di sconto o sull'iscrizione da 6 mesi o 12 mesi o addirittura all'accesso per tutta la vita. Non è mai troppo tardi per imparare una nuova lingua, quindi cliccate il link in descrizione e date un'occhiata a Babbel. Projugiamo con lo story time. Vabbè, fatto sta, arrivano da noi e ci dicono, sta per arrivare al nostro capo. Arriva questa persona, non farò nomi a questo punto perché non è un personaggio esposto, quindi non voglio neanche fare troppi nomi, però arriva questa persona e viene fuori che lui è il proprietario dell'agenzia di modelle e di una rivista molto, molto famosa giapponese. E quindi, ok. E voi direte, ok, ma chi è questo? Cioè, mi devi dire se è una delle persone più ricche, se è un miliardario, e voi direi, no, questo non è ancora il miliardario. Questa è una persona molto ricca, multimilionaria, ma non era miliardario. Lo conosciamo, ci stringe la mano, e qua di là dovete sapere che il Giappone, oltre ad essere molto ospitali con... Cioè, se tu sei un ospite di un giapponese, equiparerei all'ospitalità che abbiamo in alcune parti dell'Italia, in cui è proprio una religione l'ospitalità. Cioè, se qualcuno è tuo ospite, è sacro, non deve muovere un dito, non deve pagare nulla, è un ospite. E oltre a queste ospitalità, hanno anche una cosa in più, hanno un modo di presentare le persone come se fossero un regalo, che può essere, diciamo, interpretato come oggettificazione, così come lo sto dicendo, ma è di più, è una roba proprio di onorevole. Io ti rispetto, e quindi ti porto qui delle persone a conoscerti, che a mia volta rispetto, e quindi è un modo di fare PR molto, molto... non lo so come, pubbliche relazioni però all'ennesima potenza, perché io ti rispetto, ti porto a conoscere queste altre persone che rispetto, e lo fanno proprio con questa maniera molto... quasi teatrale, oserei dire, non perché è finta, ma perché sembra quasi un rito. Poi si inchinano tutti alla stessa... più è importante la persona, più si inchinano... ci sono tutta una serie di cose che io tanti anni vado in Giappone e ancora non ho ben capito, e ci posso provare, ma sinceramente non posso garantirvi nulla. Fatto sta che ci portava a presentarci questo... il suo capo, come segno di riconoscenza verso il capo. Guarda, ti porto questi miei amici dall'Italia, che arrivano dall'Italia, vengono qui tutti gli anni, e ormai ci conosciamo da tanto tempo, e quindi di qua, di là, questa persona parlava molto bene, cioè molto bene, meglio inglese, e quindi abbiamo parlato un po'. Arrivano altre bottiglie, iniziamo a bere, serata divertente, mettiamo anche noi della musica, mi ricordo che all'epoca stavo ascoltando qualcosa, forse di Capo Plaza, e sono andato dal DJ, e ho detto, metti questa canzone, io l'ho cercata su YouTube, e abbiamo messo Capo Plaza nella discoteca in Giappone, che, cioè, fa già ridere così, però è stato molto simpatico, passa, non lo so, mezz'ora, 40 minuti, forse un'oretta, e viene fuori, ci vengono a dire, ah guardate, sta arrivando il nostro capo, quindi, il capo dei nostri amici, che gestirono la discoteca, e i nostri amici, vengono a noi, sta arrivando il nostro capo, quindi, non solo questo qua, multimilionario, era una persona molto importante, ma sta arrivando una persona, che stava sopra di lui, a livello gerarchico, e uno si chiede, boh, vabbè, cioè, noi, in quel momento io ero lì, che dicevo, vabbè, cioè, vediamo cos'altro succede, vediamo cosa, cosa ci butta addosso la vita, in quest'altra serata, mitologica, ok, ah una certa, io stavo lì, stavo provolando, come potete immaginare, mi vedo arrivare questa persona, abbastanza alta, maglietta nera, jeans, vestito tranquillissimo, però quel tranquillo che dici, questo è qualcuno, questo è qualcuno, e arriva con, tipo, tre persone accanto, che immagino fossero del suo staff, entra nel privé, gli danno il tavolino, neanche il tempo di arrivare, che gli portano, tipo, non so quanti, non perignò, quelli là che si illuminano, quelli là fighissimi, tutti lì, pronti, e lì ci siamo io giusto nell'angolino, che diciamo, ma, chissà chi è questo, perché i nomi, ovviamente ce li dicevano, però, sono nomi anche asiatici, che uno non è abituato a leggere, a sentire, è anche difficile trascriverlo su Google, per cercare, ma chi è questo, fammi cercare, fammi, voglio capire, e quindi arriva questa persona di qua di là, a una certa, ci vengono a prendere, e ci fanno, vogliamo presentarvi, ok, va a finire, che ci troviamo, nel privé, al tavolo, con Hiroshi Mikitani, e voi direte, ma chi è Hiroshi Mikitani, andiamo a cercare, Hiroshi Mikitani, amministratore delegato, nonché fondatore, di Rakuten, presidente del Crimson Group, presidente dell'orchestra filarmonica di Tokyo, membro del consiglio di Lyft, che è l'applicazione tipo Uber che c'è in America, il tipo ha 57 anni, è nato a Kobe, e il suo patrimonio netto è 3.1 miliardi di dollari, aggiornato al 2022, quindi probabilmente è anche cresciuto col tempo, Rakuten, vedete, su alcuni telecomandi c'è anche il tastino Rakuten, sponsor del Barcellona, se non sbaglio è tipo, o sponsor proprietario, o coproprietario anche del Portogallo, cioè come squadra di calcio, o anche una compagnia aerea, il tipo è enorme, enorme, e noi, a caso, ci troviamo a tavolo con lui, che ci offre da bere, e fin qua dici, ok, hai conosciuto questa persona, che è molto ricca, e molto famosa, e molto importante, e già fin qui la storia potrebbe, potrebbe finire qui la storia, cioè, ecco come mi sono ritrovato al tavolo, no, ma non finisce qui, perché c'è un segmento di questa storia, che è, io vi giuro, leggendario, ogni volta che il loro acconto, non mi sembra neanche vero, ma ora ci arriviamo, tra l'altro, questa cosa la ho raccontato, è in live da Dario, e lui, vabbè, è una delle persone più ricche del Giappone, però, Berlusconi è molto più ricco, Berlusconi è molto più ricco, 5.7 miliardi, quasi il doppio, hai capito Berlusconi, grande Silvio, ci presentiamo, Hiroshi parlava un inglese, perfetto, ma ovviamente, businessman, multimiliardario, probabilmente gira il mondo tantissimo, insomma, una persona davvero importante, ci sta che parlasse bene anche inglese, lo parlava da Dio, infatti, riusciamo a comunicare alla grande, ci vanno, vediamo qui da tanti anni, abbiamo conosciuto X e Y, perché veniamo qui tramite un ragazzo italiano, che vive in Giappone, insomma, abbiamo raccontato tutta la storia di come siamo finiti lì, e i nostri amici, guarda, loro sono importanti, insomma, ci vendevano come dei grandi influencer italiani, poi, grandi influencer, capiamo, però, insomma, per loro era comunque un motivo di pregio, dire, ci sono due ragazzi, che qualcosina stanno facendo, nel loro paese, hanno tot follower, guarda qua, e allora arriva Hiroshi Mikitani, grande Miki, ma lo chiamerò Miki per sempre, viene e fa, ah, guarda che bello, ah, bravo, i complimenti, lui miliardario, costruito da imprese incredibili, ah, complimenti, non so se ci stava perculando, ma probabilmente erano complimenti sinceri, e una certa fa, anch'io conosco qualcuno di famoso, e io lì per lì dico, vabbè, cazzo al cazzo, cioè, ci sta, prende il telefono, raga, è così, eravamo al tavolo, mi ha offerto, mi ha offerto Don Perignon, noi parlavamo, lì c'avamo le modelle russe accanto, insomma, situazione davvero che dici, vabbè, prende il telefono, e fa, guarda, anch'io conosco qualcuno di famoso, apre FaceTime, raga, vedo che apre FaceTime, prende una delle ultime chiamate, e, e clicca, gira il telefono, raga, io non so su cosa potrei giurarvi questa cosa, gira lo schermo, c'era Will.i.am, capito, ogni volta che racconto questa roba, ovvio che mi viene da ridere, perché, cioè, come, come, non puoi neanche inventartela una roba del genere, aspetta, c'era lui, che stava mangiando il sushi, con accanto la sua ragazza, o non so se fosse una ragazza, comunque, una bella ragazza era accanto a lui, stava mangiando il sushi, e Roshi Mikitani gli fa, guarda, sono qui con due miei amici dall'Italia molto famosi, anche qui, vabbè, capiamo, salutali, legge lo schermo e c'è William che sta mangiando il sushi, che ci fa ciao, capito, cioè, il Giappone è anche questo livello di mitologia, perché non è una storia questa, questa è praticamente mitologia, e quindi, e quindi niente, questa è la storia di quella volta in Giappone, in cui si è finito a far serata, con, uno degli uomini, cerchiamo, gli uomini più ricchi del Giappone, a quanto pare 3 miliardi non sono tanti, scusa, però, mi sa che comunque top 10, è la sesta persona, sesta persona più ricca del Giappone, questa è quella volta in cui si è finito a far serata, con la sesta persona più ricca del Giappone, che mi offriva da bere, e a una certa ha girato lo schermo, e mi ha messo in videochiamata, con Will I am, basta, amen, il video finisce qui, grazie ancora a Babbe, per aver sponsorizzato questo contenuto, trovate il link in descrizione, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo Storytime, ciao, turuturututti.